Visto che stanno aprendo nuovi centri commerciali a Messina ed in provincia, perché non utilizzare il personale ex dipendente della Marketing Sud? Ha esperienza pluridecennale e professionalità per garantire un'adeguata qualità nel servizio, come già avvenuto in provincia di Catania, dove i lavoratori sono stati inseriti anche negli enti locali. E' uno dei pressanti appelli rivolti alle istituzioni da Michele Recupero, ex dipendente Marketing Sud SRLC di Puglia Conad, che come i suoi colleghi è stato in cassa integrazione straordinaria, dall'1 dicembre 2002 al 15 novembre 2006 ed in mobilità dal 22 novembre 2006. Ha fatto parte del gruppo di circa 150 lavoratori impegnati fino al 2002 nei supermercati dell'area tirrenica e nebroidea della provincia di Messina, Venetico, Torregrotta, Milazzo, Barcellona, Termevigliatore, Patti, Capodorlando e Tortorici nelle province di Catania e Reggio Calabria. In questo momento la quasi totalità dei lavoratori, dopo aver percepito gli ammortizzatori sociali e senza alcun tipo di reddito e in gravi difficoltà economiche, potrebbero essere impiegati nei nuovi centri commerciali, dando un seguito agli accordi del 10 dicembre 2007, firmati da Unione Generale dei Commercianti della provincia di Messina e dalle rappresentanze sindacali di Fisa, Scat, Cisl, Filcams, CGL e WeTux, Will, che prevedono un loro possibile reimpiego. I reiterati appelli di Michele Recupero però fino a questo momento non hanno sortito alcun effetto, ma confida nella prossima apertura dei centri commerciali e nel fatto che i lavoratori potrebbero essere impiegati anche negli enti locali.